sicurezza arriva il taser per le forze dell'ordine pesaresi delitto di fanano domani la sentenza per l'omicidio di natalia finanziata la copertura lo stadio benelli e alla pesaro rugby dedicata a marco pagnetti la prima edizione della gara rossini raffaello agricoltura innovazione nuovi progetti per l'istituto cecchi martedì 24 maggio buona serata benvenuti al nostro telegiornale in questa prima edizione in replica anche alle 20 e 40 questa sera apriamo parlando di criminalità e sicurezza due criticità che vedono le forze dell'ordine pesaresi dotarsi di nuovi strumenti vediamo il primo servizio in un territorio che avverte come sempre più urgente l'aumento di sicurezza di fronti a episodi di micro criminalità progressivamente più frequenti arriva un deterrente in più nonché uno strumento di ulteriore tutela all'incolumità delle forze dell'ordine arriva infatti il taser in dotazione alla polizia e ai carabinieri della provincia ovvero la pistola a impulsi elettrici capace di stordire e paralizzare per qualche secondo quei soggetti che poi i tutori dell'ordine andrebbero a bloccare con le manette il tutto senza procurare ulteriori conseguenze alla salute dopo la scossa elettrica un'arma tutti gli effetti che esce dai film d'azione in cui si era abituati a vederla e a proda nella realtà locale da ieri è infatti in dotazione a polizia e carabinieri di fano dal 30 maggio arriverà a quelli di pesero dal 6 giugno per i colleghi di urbino una novità nel pesarese che non è però una novità a livello nazionale dove il taser sta raggiungendo metà delle province dello stivale e la questura pesarese si sta adeguando sarà un'arma da gestire con corsi di formazione e protocolli ben precisi dalle specifiche parti del corpo da colpire alle situazioni in cui va utilizzata vale a dire come soluzione estrema in casi di aggressione a pubblico ufficiale ed ora cambiamo argomento passiamo alla cronaca perché attesa per domani infatti la sentenza del tribunale di pesaro in merito alla condanna per omicidio volontario di vito cangini ottantenne reo confesso dell'uccisione della moglie sessantunenne natalia chiricoc con 12 coltellate all'interno delle mura della loro casa di fanano nel comune di gradara il delitto se vi ricordate si consumò la notte fra natale santo stefano dello scorso dicembre e nell'occasione cangini ammise ogni responsabilità una settimana fa in assise la richiesta del pm è stata di 24 anni di reclusione domani è attesa la sentenza e questa mattina è arrivata una notizia che i tifosi della vis pesaro attendevano da tanti anni il comune di pesaro infatti ha ufficialmente deciso di finanziare la nuova tribuna finalmente coperta nel settore prato dello stadio benelli un intervento che sarà replicato anche allo stadio toti patrignani casa della pesaro rugby i tifosi della vispesero la aspettavano da decenni ed ora il prossimo 2023 si attende davvero come l'anno buono l'anno per la copertura della tribuna prato dello stadio la gradinata degli ultras da sempre soggetti ad ogni genere di intemperie invernali e al sole cocente di inizio e fine stagione entra nell'agenda dei lavori comunali con tanto di finanziamenti approvati questa mattina nella riunione di giunte è stato infatti approvato un mutuo da un milione e 300 mila euro per copertura e miglioria alla prato ma anche alla tribuna dello stadio del rugby toti patrignani lo annunciato il sindaco matteo ricci avvalorando l'effetto positivo del finanziamento pnrr ottenuto ieri per realizzare il centro federale del basket nell'impianto facchini di via togliatti nonché futura casa vl un mutuo che dunque non diventa più necessario da un lato dove erano previsti due milioni ed irottabile ora su calcio e rugby nel dettaglio la prato delle benelli non solo verrà coperta ma pure abbassata e allungata già attivi i contatti fra il comune e il presidente della vis mauro bosco i lavori potrebbero partire o nella pausa natalizia o alla fine della stagione 2022 2023 idem per il rugby insomma all'orizzonte c'è la concreta prospettiva di stadi sempre più confortevoli è stato condannato per diffamazione l'odiatore social di matteo ricci che il sindaco di pesaro aveva querelato per un caso di insulti sul suo profilo facebook nello specifico il tribunale ha condannato il cinquantenne pesarese agostino cicciarello con una multa di 800 euro e un risarcimento di altri 3 mila euro nei confronti di ricci la giunta comunale ora devolverà questi proventi ad un progetto da individuare fra il contrasto alle barriere architettoniche un corso di formazione contro l'odio social da proporre nelle scuole oppure la realizzazione di una panchina arcobaleno a sostegno del contrasto all'omofobia lo scorso marzo l'intera provincia pesarese restò davvero sgomenta di fronte alla morte del quindicenne pesarese marco ragnetti deceduto in scooter mentre si stava recando a scuola ed ora due mesi dopo nasce una corsa una gara ciclistica a lui dedicata sarà dedicata a marco ragnetti la prima edizione della gara ciclistica rossini raffaello prevista domenica 3 luglio 80 chilometri di sfida colpi di pedale che uniranno le due città capoluogo di provincia in una competizione ciclistica nazionale della categoria lievi ovvero dedicata all'età compresa fra i 15 e i 16 anni la stessa età che aveva il pesarese marco tragicamente scomparso in un incidente stradale in scooter lo scorso mese di marzo marco era un ciclista dell'alma juventus fano società sportiva che tra i soggetti promotori di un evento che nasce ora con l'ambizione di diventare una classica rossini raffaello che è stata presentata lunedì in comune alla presenza tra gli altri anche dei commossi genitori di marco fianco a fianco al lavoro interforze organizzativo di fisioradi medical center ca virginia alma juventus fano ciclo ducale e al sostegno dei comuni di pesero urbino se una una mentalità vincente se una una mentalità con una passione forte se uno ha guarda avanti come ha detto giacomo rossi potrebbe diventare un evento internazionale come dico sempre i sogni nella vita servono per farti guardare avanti per farti realizzare sicuramente e raggiungere degli obiettivi una gara un sogno quella voglia di competere e di sognare gareggiando che aveva anche marco ragnetti avevamo ospitato l'alma juventus fano 15 giorni prima della sua morte presso il centro fisioradi medical center in una serata dove parlavamo di nutrizione di mentalità e proprio questi ragazzi sognavano questa peso urbino rossini raffaello questa gara in linea sul loro territorio e perché loro dicevano è un sogno per noi avere una gara di questo livello qui da noi e qualcuno di loro aveva detto mi piacerebbe vincere e uno di questi era marco regnetti la rossini raffaello partirà il 3 luglio alle 15 30 da piazza del popolo di pesero e raggiungerà urbino passando per monte labate apsella talacchio rio salso borgo massano cagallo schieti e fermignano per un ciclismo che valorizzerà anche il territorio a colpi di pedale il territorio ci guida la passione l'innesco è la miccia quindi è quello che fa partire ma sicuramente quello che può esprimere il territorio è proprio la forza in particolare di poterlo scoprire anche attraverso uno sport come la bicicletta la bicicletta per quello che mi riguarda è sensazione di libertà più assoluta e conquista e la possibilità di vedere di osservare quello che c'è quello che abbiamo intorno con un andare più lento in contraddizione se vuoi una gara ciclistica però ecco questo è l'obiettivo che poi dobbiamo darci anche a livello turistico perché un territorio possa essere scoperto visitato e vissuto attraverso proprio i pedali e c'è un'altra novità che lega il mondo del ciclismo a quello delle scuole superiori del territorio il liceo artistico mengaroni infatti realizzerà un monumento dedicato alla memoria del campionissimo marco pantani dieci progetti ma un unico vincitore il disegno selezionato oggi al liceo artistico mengaroni presto diventerà un monumento dedicato alla leggenda del ciclismo marco pantani il progetto che ha coinvolto dieci studenti della classe terza b della sezione di arti figurative si è concluso questa mattina con la proclamazione delle tre idee più interessanti ma solamente la vincitrice verrà anche realizzata un'opera che verrà installata in un punto della ciclovia adriatica che dovrà sorgere e che collegherà colombarone a gabice una ciclovia che il consigliere comunale manuele gambini ha proposto settimane fa alla giunta la quale ha rilanciato decidendo di intitolarla proprio a pantani lo stesso gambini ha voluto coinvolgere il liceo artistico in questo importante progetto per la città di pesaro che da tempo è la patria della bicicletta ci sono stati dei progetti molto belli è stato difficile scegliere poi quale sarà realizzato poi sarà opera del comune di pesaro comunque realizzare questo progetto il domani che avverrà questa la realizzazione di questa pista ciclabile mi è piaciuto molto lavorare a questo progetto perché grazie anche all'assessore franco e luci che ho coinvolto in questo progetto perché i ragazzi si sono trovati a realizzare un'opera dedicata a marco pantani un ciclista che non è della loro epoca ecco quindi la doppia difficoltà ma sono venuti fuori dei progetti veramente interessanti e andremo ad esporli sia a pesaro nel qualche negozio che accetterà di esporre questi progetti e abbiamo avuto già il benestare del fan club di cesenatico che li esporrà a breve gambini che mi ha cercato per appunto realizzare un monumento dedicato al ciclista marco pantani e quindi è nata subito la ricerca tra i ragazzi perché il primo approccio appunto a qualsiasi argomento è proprio quello della ricerca e poi i ragazzi attraverso una serie di schizzi di disegni sono sono riusciti ad entrare un po nello spirito e pensando ecco di anche realizzare non avevano vincoli quindi loro si sono un po' mossi con molta autonomia e hanno cercato di realizzare anche opere tridimensionali però poi ecco giustamente venendo anche da una sezione che lavora molto sul bidimensionale hanno trovato dei piccoli ostacoli delle prime difficoltà è stato divertente anche nello stesso tempo complicato perché ci sono state anche varie complicazioni nel corso dell'opera che genere di complicazioni che non so cambiato varie volte idea quindi hai fatto anche numerose ricerche in merito anche alla storia di pantani per poi disegnare il progetto che poi ha vinto sì anche abbastanza ricerche stato appassionato di più della storia di pantani il fatto che non ha mollato anche quando aveva varie fratture tutto dove sorgerà quest'opera che ricordiamo in quale materiale si realizzerà e quando allora l'opera speriamo che venga realizzata il più presto possibile perché vorrebbe dire che la ciclovia adriatica di colombarone verrà realizzata quindi tutto è legato a quella ciclovia io sono molto fiducioso perché abbiamo già anche le aziende che vogliono realizzare questo monumento e quindi grazie ai ragazzi che hanno fatto il disegno e grazie alle aziende che stanno già spingendo per poterlo realizzare perché comunque è un'opera di grande visibilità e di grande importanza per la città lo spettacolo del triathlon torna a pesaro per il terzo anno consecutivo con 300 atleti che si daranno battaglia nelle tre frazioni di gara della triathlon olimpico adriatic series di pesaro l'appuntamento per domenica 29 maggio dalle 8 e 30 alle 12 competizione presentata oggi in baia flaminia quartier generale in cui partiranno le gare che in questa edizione passeranno dalle distanze sprint a quelle olimpiche è di 1500 metri la frazione di nuoto in programma nelle acque della baia flaminia di 40 chilometri quella in bici raggiungendo la panoramica di 10 chilometri quella in corsa che prevede un passaggio nella zona porto la 58esima edizione della mostra internazionale del nuovo cinema che si terrà pesaro dal 18 al 25 giugno annuncia una retrospettiva dedicata a mario martone l'evento speciale dedicato al regista napoletano vedrà la proiezione di tutti i film per il cinema del regista e in particolare il restauro del suo film d'esordio morte di un matematico napoletano dalla mostra del cinema di pesaro passiamo a passaggi festival di fano che ha ufficializzato alcuni ospiti della sua decima edizione ovvero roberto saviano vittorio sgarbi guia soncini catena fiorello il premio campiello giulia camminito giorgia soleri la cantautrice il magistrato edmondo bruti liberati l'esperto di bioetica e intelligenza artificiale paolo benanti e l'ex ministro vincenzo spadafora l'università di urbino attraverso il rettore giorgio calcagnini ha conferito oggi il riconoscimento del sigillo d'ateneo a nicola gratteri procuratore della repubblica di catanzaro da sempre in prima linea nella lotta alla mafia nell'occasione gratteri ha anche tenuto un alezio magistrali sulla storia dell'andrangheta una cerimonia che potrete vedere approfonditamente in uno speciale dedicato che rossini tv trasmetterà sabato 28 maggio alle ore 21 e 20 e si chiama psr marche il piano di sviluppo rurale della regione che dalla settimana scorsa sta proponendo un nuovo ciclo di incontri dal titolo vivi per presentare l'offerta di bandi dell'agricoltura e promuovere lo sviluppo rurale assieme agli imprenditori del settore domani mercoledì 25 maggio l'appuntamento è alle 17 30 dove si terrà appunto il quinto appuntamento al ristorante simposium di cartoceto e ci saranno anche le nostre telecamere pesaro ricorda renata tebaldi nel centenario della nascita del grande soprano un anniversario che sarà commemorato venerdì con un concerto organizzato dagli amici della lirica e dal conservatorio di pesaro vediamo è un momento molto importante per il circolo che dopo due anni di pandemia finalmente esce di nuovo con organizzare un concerto così importante perché c'è una collaborazione non solo col comune di pesaro per un personaggio esimio come renata tebaldi perché in questo ambito il concerto ma anche con il conservatorio e infatti nello statuto del circolo c'è proprio detto che l'intento del circolo è collaborare con gli allievi promuoverli nei concerti anche con delle borse di studio quindi per noi è molto importante questo inizio io sono un organista suonerò alla chiesa di san giovanni alle ore 21 venerdì 27 e accompagnerò questi tre ragazzi polina nichina che è un mezzo soprano e giulia costantini che è un soprano e giovanni castagliuolo che è un tenore sono tutti tre veramente delle eccellenze del conservatorio ed è una soddisfazione perché già suonare è una cosa bellissima ma suonare insieme agli altri è ancora più di soddisfazione soprattutto questi giovani così talentosi la gratitudine al circolo amicia lirica con una storia ultra quarantennale e che questa volta in collaborazione anche con il conservatorio che mette a disposizione i suoi grandissimi studenti artisti e ci permette di mettere un tassello prezioso in più non solo nella strada verso pesaro 2024 non solo il pesaro sta un esco della musica ma anche nel straordinario centenario di renazza tebaldi cui pesaro sia la parma busseto e anche i teatri più importanti del mondo sta prendendo parte con un programma composito fatto appunto di tante perle garantite le proprie istituzioni culturali tra cui appunto questo appuntamento di concerto per organo e voce alla chiesa della chiesa di san giovanni battista la chiesa monumentale che ha di per sé un organo molto prezioso anche molto importante dal punto di vista del repertorio possibile imperdibile concerto appunto che omaggerà a renata tebaldi ma in realtà sarà anche un grande elemento di pesaro sta della musica in vista anche poi della mostra dedicata a renata tebaldi proprio di vicino al museo nazionale rossini in via passeri che prenderà corpo nel mese di nel mese di giugno che sarà un ulteriore omaggio insomma di pesaro a questa sua grandissima concittadina che di cui ricorre il centenario e chiudiamo il nostro telegiornale con un servizio che parla di agricoltura di innovazione all'istituto agrario cecchi nel progetto olive jet che approfondiamo in questo prossimo servizio ci troviamo all'istituto agrario cecchi di pesaro per la presentazione del progetto gias un progetto rivolto all'agricoltura 2.0 e che ha visto coinvolti oltre ai docenti e ragazzi studenti dell'istituto agrario anche alcuni responsabili dell'agronica e alcuni ricercatori dell'università politecnica delle marche il progetto lujet prevede l'utilizzo della tecnologia 4.0 con la disposizione nel terreno e nell'aria di vari dispositivi in grado di rilevare lo stato del terreno e lo stato dell'aria dati che vengono raccolti e che non rimangono statici ma vengono elaborati per essere restituiti in tempo reale ed essere in grado di prevenire stati patologici stati di carenza nutrizionale stati di carenza idrica eccetera nel nuove li vieti in progetto e pensiamo in futuro di utilizzarli anche per tutte le altre coltivazioni aziendali questo progetto ha visto coinvolto diverse classi dell'istituto le classi le ultime classi le quarte e le quinte che sono intervenuti nelle varie fasi del progetto anche manualmente oltre naturalmente ad avere reperito questi dati eccetera il progetto è in corso d'opera e vedrà l'ultimazione nel corso del prossimo anno quando ultimeremo l'ultima parte di Oliveto che dobbiamo ancora mettere a dimora e questo è previsto verso la fine dell'anno quando ci verranno restituite le piantine che stanno preparando in un laboratorio di microbiologia di Firenze La piattaforma Gias è una piattaforma integrata per l'agroalimentare quindi gestisce sia la fase primaria quindi la produzione diciamo in campo fino a tutti gli altri passaggi che seguono per arrivare alla produzione diciamo del cibo trasformato fino allo scaffale e la rintracciabilità anche nei confronti del consumatore in questo progetto sono stati utilizzati dei sistemi di supporto alle decisioni per ridurre gli input in termini di irrigazione prevalentemente di difesa quindi due aspetti che abbiamo preso in considerazione sono stati questi anche se la piattaforma ovviamente gestisce anche altri aspetti tecnici si va sempre verso più una conversione ecologica anche attraverso questa piattaforma ovviamente si esatto diciamo combinando dati di diversa origine nel caso di questo progetto sia dati da sensoristica prossimale quindi diciamo installati presso gli apprezzamenti sia di stale quindi satellite e altro si cerca di ottimizzare diciamo gli input quindi nel caso difesa i trattamenti e nel caso dell'irrigazione gli apporti idrici quindi diciamo la sostenibilità la si ottiene di fatto per noi informatici è la riduzione diciamo il calcolo delle esatte necessità per ridurre l'impiego degli input nel processo produttivo è un progetto ovviamente che è già la seconda annualità noi abbiamo già partecipato a un progetto del psr con l'università politecnica delle marche professor neri e con il consorzio di tutela dell'olio dopo di cartoceto e con questo nuovo progetto ovviamente abbiamo anche implementato un nuovo livello sperimentale proprio per andare diciamo a testare quelle varietà più resistenti anche cambiamenti climatici quindi alla scarsità di irrigazione e praticamente con l'aiuto anche di agronica che ha dotato di sensori e sensoristica le varie aziende del del consorzio cartoceto andiamo anche cercando di migliorare la qualità e la produzione con un controllo diciamo da agricoltura 4.0 quindi è questo praticamente il nocciolo del progetto oggi vengono un po tirate le somme di questi anni di lavoro e quindi adesso andremo a vedere io nel mio caso sono un dottorando come diciamo prima dell'università politecnica delle marche e abbiamo in questo caso utilizzato tecniche che possono permetterci di effettivamente portare in qualche modo il nostro campo a casa e tirar fuori dei dati che possono essere utili all'agricoltore per e a chi si approccia anche a queste nuove tecnologie che possono essere appunto anche dei dei sistemi decisionali a supporto dell'agricoltore per ottenere quindi alla fine un aiuto concreto da parte appunto sia del consumatore finale che dell'agricoltore andando ad ottenere delle informazioni utili che normalmente otteniamo e abbiamo e abbiamo solo in campo e dunque siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma come sempre restate collegati su rossini tv perché questa sera c'è una nuova inedita puntata di qua la zampa alle ore 21 e 20 non perdetevi questo questo approfondimento dedicato ai nostri amici animali con tanti con tante interviste a esperti e soprattutto andremo al canile al gattile insomma parleremo dei nostri amici animali insieme a jack insieme a juliette che vedete lì ed insieme ad antonio astuti e poi vi ricordiamo che domani torniamo con la nostra rassegna stampa sarò in diretta con voi alle 7 20 in diretta sul canale 80 in diretta anche sulla nostra pagina facebook e chiaramente anche sul nostro sito internet vi ricordiamo inoltre visto che l'estate ormai è alle porte anzi è quasi arrivata che potete scaricare gratuitamente la nostra applicazione modo tale che potrete vedere sempre in ogni istante rossini tv in qualunque parte del mondo voi siate in vacanza sotto l'ombrellone potete sempre seguire i nostri programmi in diretta e vedere anche le puntate che magari vi siete persi potete scaricarla su google play oppure sull'app store ho detto davvero tutto carissimi amici adesso per voi c'è il meteo per vedere come sarà il tempo i prossimi giorni l'appuntamento appunto è a domani con la nostra rassegna stampa buona serata